Allora Mengo andiamo in finale Mengo intanto non so se tenerei accorto quinta partita quinta durissima partita abbiamo spuntato dopo tre sette durissimi ma nel quarto siamo partiti grande il tuo ingresso a muro tutto perfetto stasera Mengo sì sì tutto perfetto ma siamo veramente stati bravi noi secondo me a non mollare dopo un primo set di Modena strepitoso dove hanno ricevuto sempre perfetto con Bruno dentro i tre metri muro difesa faceva molta fatica e siamo stati bravi noi a crescere durante durante tutta l'arco della partita soprattutto in battuta dove ci ha permesso poi anche di fare delle buone giocate in difesa a muro senti il terzo set è stato probabilmente il set decisivo ha dato grande carica a noi al pubblico che è stato strepitoso e probabilmente ha un po' fiaccato la convinzione di Modena che comunque stava giocando benissimo sì è stato un terzo set dal cardiopalma punto a punto tutto il set fino a 25 pari abbiamo spuntato a noi 27-25 con delle belle battute insomma siamo stati bravi e rimanere concentrati perché quel set lì è stata veramente la chiave della partita senti Mengo l'ultima cosa e poi ti lascio portiamo questo palazzetto e questo pubblico in finale sì se lo merita se lo merita dopo questi anni di covid insomma rivedere il palazzetto così pieno e la gente ancora adesso che è qui a festeggiare e a cantare bellissimo quindi rimaniamo tutti insieme positivi per giocarci questa serie di finale bellissima grazie Mengo